La Regione Emilia-Romagna risponde all'appello delle imprese del territorio che chiedono di avere più tecnici preparati per crescere e innovare. Lo fa rafforzando la rete politecnica con oltre 100 opportunità formative, con lezioni, laboratori e stage, a cui potranno partecipare più di 2.000 giovani. Sul tavolo la Regione mette 12 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo e 1.500.000 euro del Ministero dell'Istruzione. 12 milioni di euro di fondi europei che noi mettiamo per la formazione dei quadri intermedi, quelli che materialmente mandano avanti i reparti. E lo facciamo con tre livelli di corsi, i corsi biennali, i famosi istituti tecnici superiori, con i corsi di un anno, si chiamano i FTS, mettendo la parola FVD, formazione, e dei corsi più brevi, molto mirati alle problematiche specifiche delle singole imprese. Corsi fatti con le imprese dentro le imprese dell'Emilia-Romagna che permetteranno di acquisire competenze orientate a specializzazione, internazionalizzazione e innovazione, che per il tessuto economico del territorio si traduce in maggiore competitività e per i tecnici un'opportunità reale di occupazione. Noi oggi, con la nostra rete degli istituti tecnici superiori, abbiamo un solo problema. Il problema è che le imprese si rubano i ragazzi e rischiano di non finire il corso biennale. Ma questo perché? Perché è un corso che ha una grande particolarità. È metà a scuola, ma è metà direttamente dentro le imprese. Metà, il più delle volte, è in Italia e metà addirittura nelle sedi estere delle nostre imprese. Quindi non soltanto è un corso che ti garantisce dopo un lavoro, ma ti garantisce durante la capacità di essere dentro l'impresa, capire le imprese e capire le cose.